Cosa mangia l'ingercino? Oggi facciamo il pesce in crosta di patate. Questi sono due branzini, anzi è un branzino tagliato in due. Tre spezie, cipolla, aglio, carota e seta nel mix. Aggiungiamo il pesce in crosta di patate. Torniamo le patate. Aggiungiamo il pesce in crosta di patate. Aggiungiamo il pesce in crosta di patate. Aggiungiamo il pesce in crosta di patate. Aggiungiamo il pesce in crosta. Aggiungiamo il pesce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo messo in mix le patate. In questo modo ci sono un po' di patate che sono rimaste grandi e un po' di patate che sono sminuzzate insieme al condimento. Nel condimento mettiamo anche un po' di sale. Un po' di olio. Ovviamente extravergine d'oliva lavoriamo con le mani. Il composto lo posizioniamo sul pesce. Grazie. 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 Grazie.